Sì, come sindacato, Cigiele Cisui della Lombardia, riteniamo la cascina un po' la nostra casa in questi mesi in cui il sociale ha cercato di animare anche la vicenda di Expo e a tratteggiare alcuni impegni di carattere sociale. Noi oggi qui siamo presso la cascina perché come sindacato stiamo lanciando un percorso formativo di impegno, non è un convegno generico, è l'avvio di un percorso formativo nel quale noi vogliamo occuparci facendo sì che i nostri sindacalisti aumentino le competenze sul tema della formazione per i lavoratori, ovvero esistono bandi e fondi che finanziano la formazione per le imprese e per i lavoratori, il sindacato ha un grande ruolo nella condivisione e noi pensiamo che servono sindacalisti più competenti soprattutto per imprese più competitive e lavoratori con una buona occupazione. Lavorare per l'occupabilità, lavorare per l'aumento della qualità del lavoro, lavorare perché oggi ci sia una prospettiva seria di crescita occupazionale e i lavoratori formati è un impegno nostro, è un impegno sociale importante e noi con le nostre iniziative stiamo cercando di dare ai nostri tanti sindacalisti sul territorio più strumenti. È un'attività formativa, oggi si comincia a imparare, serve tantissimo e quindi ci pare di essere nel contesto giusto.